Mara Venier, la regina della Domenica italiana, torna alla guida di Domenica Inn. Dopo la conclusione della stagione 2024, sembrava che Mara Venier fosse pronta a lasciare il suo amato programma. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Ma la conduttrice ha annunciato, durante l'evento Una voce per Padre Pio, che sarà nuovamente al timone a settembre. Un'ottima notizia per tutti gli affezionati telespettatori Rai. Mara ha spiegato al Corriere della Sera il suo amore incondizionato per Domenica Inn. Non riesco a dire di no, questo programma sono io! Una scelta fatta con il cuore, nonostante avesse pensato di ritirarsi mentre era ancora al top. Ma non è tutto rose e fiori. Mara ha affrontato un anno difficile, segnato dalla perdita del genero e dalle truffe online che hanno usato la sua immagine. E non dimentichiamo il caos seguito alla lettura del comunicato Rai Post Sanremo 2024. Accusata di censura e di fare propaganda, Mara ha chiarito Non avrei mai dovuto leggerlo, punto. Nonostante le difficoltà, la nostra amata zia Mara Venier è pronta a tornare, più determinata che mai, per portare avanti Domenica Inn e continuare a tenere compagnia agli italiani ogni domenica. E tu cosa ne pensi? Lascia un like e commenta qui sotto!